Musica Sembra un vero e proprio mondo perduto in cui questi animali sembra che si siano appunto risvegliati così come vivevano milioni e milioni di anni fa abbiamo dinosauri e animali preistorici a grandezza naturale abbiamo i dinosauri più famosi come il celebre T-Rex ma abbiamo anche dinosauri e altri animali meno conosciuti che però sono stati studiati direttamente dal nostro gruppo e di cui ci piace raccontare la storia per farli conoscere al grande pubblico Un viaggio nel tempo per ammirare i giganteschi rettili dominatori dell'era mesozoica riprodotti a grandezza naturale in un ambiente perfetto che sembra fatto su misura con oltre 6 km di percorso nella natura incontaminata nei suggestivi interni della torre borbonica La riserva degli astroni ospiterà la mostra da domani fino al 5 novembre con circa 40 dei famosi animali estinti tra cui icone come il T-Rex, il diplodoco ed una celebrità campana come Scipionix il cucciolo di dinosauro meglio noto con il soprannome di Ciro È stato il primo dinosauro trovato in Italia, è diventato famoso in tutto il mondo io sono uno dei paleontologi che ha avuto la fortuna di poter studiare i reperti e quindi in questa mostra c'è anche un angolo dedicato a lui per raccontare com'era, come ha vissuto cosa sappiamo di questo meraviglioso esemplare che ci invidiano appunto tutti i colleghi in tutto il mondo Un allestimento spettacolare in un contesto altrettanto spettacolare per coinvolgere i visitatori ed appassionarli alla scienza, alla paleontologia ed alla storia della vita Una mostra davvero eccellente, straordinaria e unica perché mostre più o meno simili le abbiamo viste nei musei, nei luoghi chiusi anche sono belle ma qui sono spettacolari perché è un contesto naturale assolutamente verosimile magari all'epoca storica di cui parliamo quindi complimenti a tutti quelli che hanno contribuito perché c'è anche un livello scientifico di paleontologia molto elevato e poi siamo contenti che si possa fare qui in un luogo splendido della nostra città della nostra area metropolitana che è la riserva degli astroni di Agnano sono convinto che tanta gente verrà qui a vederlo perché è anche un percorso naturalistico quindi è il modo per scoprire un bene comune come la riserva degli astroni complimenti anche al WWF, a tutti gli organizzatori perché anche noi ovviamente abbiamo dato dalla nostra parte il nostro contributo e siamo contenti di essere protagonisti di quest'ulteriore cosa bella che si fa nella nostra città grazie a tutti